amici tecnologici benvenuti in un nuovo video oggi andremo un po a discutere su come andare a realizzare energia elettrica in maniera infinita totalmente gratuita con l'utilizzo di apparecchiature e componenti per lo più riciclati in giro per youtube esistono centinaia e centinaia e centinaia di video che parlano e mostrano come andare a realizzare energia infinita e gratuita le componenti diciamo principali di questi esperimenti di queste produzioni di queste lavorazioni di queste invenzioni sono per lo più dinami la dinamo perciò dei generatori elettrici dei motori elettrici o degli alternatori come vediamo anche da queste foto che diciamo scorrono sul video ci sono vari esperimenti fatti con varie tipologie di di a dinamo di alternatori e di motori elettrici ma il risultato comune è quello che grazie ad un motore elettrico più un alternatore o una dinamo riusciamo a creare energia elettrica benissimo e fino a qua ci siamo i video che noi andiamo a vedere online tutto funziona tutto è perfettamente funzionante mettono come test per esempio le lampade fanno accendere delle lampade fanno accendere dei per dimostrare anche la quantità di energia che questi motori possono generare e fanno funzionare dei ferritas tiro perché come sappiamo ferritas tiro hanno un assorbimento altissimo fanno funzionare la qualsiasi cosa ne abbiamo visto uno che andavano ad alimentare in contemporanea 3 elettro densili più un condizionatore d'aria quelli d'appartamento con una potenza in tutto di circa 1500 1600 watt ok tutto è bellissimo tutto è innovativo però purtroppo dietro a questi video ovviamente come forse ognuno di voi lo ha pensato almeno una volta guardando questi video non tutto è vero perché la tecnologia si oggigiorno ci permette di avere prodotti molto più efficienti migliori anche ecco come come costruzione come tecnologia però l'energia infinita l'energia gratuita finita infinita è una cosa impossibile attualmente se così non fosse ognuno di noi avrebbe nelle proprie case un generatore di energia che ci renderebbe liberi da qualsiasi tassa da qualsiasi spesa superflua anche se dietro a questo si nascondono tante altre diciamo correnti di pensiero come per quanto riguarda la o gli automobili elettriche ci sono delle organizzazioni ci sono dei grandi personaggi che non vogliono l'espansione dell'energia elettrica nelle automobili non perché non vada bene anche se ha dei punti in sfavore ma alla fine tutto sommato ha più punti positivi che negativi ma loro non vogliono appunto che questa tecnologia prenda piede perché hanno perdite economiche io non sto dicendo che tutto ciò che andrete a vedere online sui generatori diciamo energetici infiniti sono tutte cose false no possono anche funzionare perché diciamo il funzionamento è semplice un motore elettrico fa girare un un generatore questo generatore ovviamente e naturalmente genera energia elettrica è normalmente ci alimenta ciò che noi andiamo a mettere come carico perciò il funzionamento e c'è esiste e nessuno ha nulla in contrario però c'è molta gente che gioca su questi diciamo video su questi arcani nascosti della tecnologia noi come abbiamo detto possiamo far generare elettricità però non è né infinita né a ciclo chiuso cioè noi non possiamo nello stesso tempo generare e generare e consumare quella stessa elettricità cioè il discorso è molto più complesso di quanto sembra però alla fine di tutto questo video che ho scelto di fare è appunto per tenervi un po a distanza da questi falsi miti è vero che dietro c'è tecnologia dietro c'è verità però è da tenere sempre con le pinzette torniamo al discorso delle auto elettriche perché non vogliono fare per espandere questa tecnologia semplice perché espandendo questa tecnologia il 90 per cento di carburanti andrebbe a non essere più utilizzata perciò chi ha il potere attualmente lo perde e tutto ciò non va bene idem lo possiamo diciamo trasformare nel nella nella parte elettrica cioè nel nei fornitori elettrici se effettivamente esiste una tecnologia a portata di tutti che ci permette l'uso di questi accrocchi di questi di queste diciamo assemblaggi di componenti e tutto questo ci permette di alimentare casa nostra è normale che a qualcuno può dare fastidio perché ok lo fa uno lo fanno due lo fanno un gruppo limitato di persone e allora può essere un danno che possiamo tenere diciamo non ci fa differenza ma se tutti tutti opteremmo per queste fantomatiche invenzioni casalinghe e avremmo energia elettrica gratis a qualcuno tutto questo darebbe molto fastidio perché non non c'è più il monopolio non c'è più chi controlla quella fonte energetica perciò verità e non verità ci sono delle verità però nello stesso tempo sono troppo semplici otti ecco sono degli accrocchi troppo semplici otti che non possono in effettivo dare energia infinita danno energia sì fino a quando il motore gira l'altro genera ma dal momento in cui il motore non gira più lui non genera più io vedevo molti video che facevano una specie di connessione l'anello cioè ciò che genera permette all'altro di girare e di conseguenza di generare perciò consumo genero consumo genero genero consumo un ciclo continuo ma questo ciclo può funzionare attenzione può funzionare ma non infinito perché perché ciò che si genera si va man mano perdendo cioè per esempio noi generiamo mille volt questi mille volt girando 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 entrando dentro il motore dentro le spazzole uscendo arriva sul l'alternatore l'alternatore ha il suo diciamo avvolgimento è appunto ci genera altra tensione man mano che questo giro man mano che ci si si diciamo si concretizzano le perdite di tensione le perdite di potenza abbiamo un notevole di meno in una notevole diminuzione dei numero di giri del motore principale questo per conseguenza porterà a meno corrente generata e tutto questo giro man mano man mano porterà a numero di giri bassissimi fino a quando il motore principale non gira più perciò detto questo se volete cimentarvi nella costruzione nell'invenzione di questi diciamo prototipi o sorta di generatori casalinghi potete farlo come abbiamo detto le componenti si possono anche riciclare da elettroutensili sono semplici ecco da reperire anche in commercio è ovvio che se si utilizzano prodotti di qualità quel difetto viene meno però c'è sempre cioè può durare più quell'effetto infinito però arrivano un punto basta finisce tutto finisce per quanto riguarda invece la stessa cosa è per i generatori a benzina perciò i gruppi di continuità lì come funziona tu metti benzina il motore a scoppio brucia quella benzina gira girando fa girare un gruppo elettrico un alternatore ad alta tensione questo alternatore genera energia elettrica ma se io non metto più benzina la benzina dopo un po finisce ovviamente perché in fisica nulla si crea e nulla si distrugge tutto si trasforma perciò se io ho una fonte rotante esterna diciamo all'impianto per esempio una paleolica per esempio una pala che funziona con un fiume e in un lago in una diga o qualsiasi altra cosa che girando mi fa girare il generatore e sempre lì siamo uguali fin quando c'è il giro lui genera quando il giro non c'è più lui ha smesso di generare idem anche l'energia solare di giorno genera di notte non genera perché nulla si crea nulla si distrugge tutto si trasforma perciò noi trasformiamo l'energia solare in energia elettrica trasformiamo il movimento di un fiume in rotazione e di conseguenza in energia elettrica idem con il vento trasformiamo il vento in rotazione e poi in energia elettrica ma se non c'è questa trasformazione di energia noi non possiamo fare altro nel caso in cui questi fantomatici inventori vanno a collegare un motore con un alternatore li collegano a diciamo a anello e fanno funzionare il primo partendo il secondo staccano le alimentazioni diciamo per lo starter quello per fare partire il motore elettrico per la prima volta staccano quell'alimentazione perciò ci mostrano che quel sistema da quel momento in poi diventa autonomo ok va bene una domanda ma perché questi video non durano più di un quarto d'ora perché non abbiamo un video vero reale che ci mostra questo prodotto che almeno ci funzioni 24 ore non di più 24 ore perché io posso inventare anche una un apparato che va va collegato con la rete elettrica per due minuti ma da quel momento per 24 ore lui continua a lavorare ragazzi miei già solo avendo la possibilità di realizzare questo fantomatico generatore noi avremmo una bolletta energetica di circa 5 euro mensili e in più abbiamo fatto soldi perché abbiamo inventato un generatore non ad energia infinita attenzione perché non è infinita abbiamo detto che dura il suo effetto 24 ore però tramite i due minuti di partenza noi siamo arrivati a generare per 24 ore e già qui potrebbe essere una cosa rivoluzionaria un'innovazione che porterebbe senza nessun senza sì e senza ma se solo si potesse fare porterebbe laudi guadagni e non solo ma purtroppo questo non è tutto finisce per questo video abbiamo finito se vi piacciono questa serie di video io vi invito a iscrivervi al canale cliccare sulla campanella che è quella accanto ai scriviti commentare sotto se hai dei due pareri se hai fatto qualche esperimento se ha inventato se hai provato mai nella nella tua vita a innovare sulla parte diciamo energetica ciao e grazie grazie